Pino che stai guarda? No ieri ho fatto la carbonara ne ho mangiati due piatti e mi sono fatto anche il video mentre la mangiavo perché un mio amico mi ha detto che per dimagrire devo riguardarmi a tavola però qua non si dimagrisce in casa è un mese che qui guardo stai guardando